Nel corso di predisposti servizi di controllo, i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un giovane 23enne di nazionalità albanese domiciliato di Ivrea, al momento sottoposto alle resti domiciliari in applicazione di misura cautelare, denunciando a contempo la giovane convivente 22enne con nazionale con pregiudizi di polizia. In particolare i carabinieri della stazione Strambino, insospettiti dai frequenti via vai dell'abitazione del giovane, unitamente ai militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ivrea, hanno sottoposto a perquisizione domiciliare l'appartamento del ragazzo, trovando circa 70 grammi di cocaina e alcuni grammi di hashish. La droga, a buona parte ancora confezionata, prima di essere suddivisa e immessa nella locale piazza di spaccio, era stata riposta all'interno di un vecchio calzino, a sua volta nascosto all'interno di una confezione dei medicinali, mentre le dosi di hashish erano nascoste in prossimità del davanzale della camera da letto, in modo da contenere il forte odore della sostanza vietata. Sequestrato anche un bilancino di precisione. Il giovane, affatto di suo asolo dal proseguire l'attività di spaccio, è stato questa volta portato in carcere.